Buonasera e benvenuti a questa edizione in diretta del nostro telegiornale. Iniziamo parlando di cronaca e della tragica vicenda di Maria d'Introna. Infatti la speranza non ha mai cessato di alimentare i suoi familiari. La giovane sposina di Cavaglià oggi è stata ritrovata nel pomeriggio e come un piombo la notizia del ritrovamento del suo corpo è arrivato alla famiglia e al paese di Cavaglià. A confermare la tragica notizia il sindaco di Corato Luigi Perrone. Il corpo è stato inviduato nel ponte 4. Il bilancio delle vittime sale così a critici. La notizia nel tardo pomeriggio di oggi come un tam tam si è diffusa a Cavaglià accolta dalla comunità con un immenso sgomento. Un epilogo drammatico che si chiude su una vicenda drammatica commenta il vice sindaco Pierluigi Nicolello e sarà proprio il paese del basso biellese nei prossimi giorni ad accogliere i familiari della giovane donna che riporteranno a casa il feretro della giovane sposa.